Un tributo alla coppia Battisti-Mogol, una rivisitazione di Battibravo e una interpretazione dei Ras Imamotis, senza bamba, di Battibravo. rapporto allaumentazione dei Ras Imamotis, senza bambi, Battisti-Mogol, una funzione dei Ligmi, Daniel Aprileva e una l'es Shawty in Germania. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.